Questo film è leggero come un'intuizione. Come ti chiami? Sì, Loretta Villas. Ah già, scusa ma non ho memoria prima. Sì, certo. Certo. Questo è un video vero e non un vero video. Sì, è un video vero. Sei in conflitto con tuo padre? La volpe si conosce dalla coda. Quando la testa si ingrassa, il manico si secca. Quando ti tocco sulle cuciture ti sento tutta vibrare. Non farci caso. È la mia pelle che ride a crepapelle. Gli uomini non sono niente di speciale. Hai visto che cielo? Ancora più nebuloso. Non riesco a pensarlo come esistente. Aine. Non sarà perché è un occhio ermeticamente chiuso? Le nostre luci sono luci vere, non vere luci. Noi siamo la luce della verità. Secondo te ho qualche nemico? Sì. Qualcuno al mattino presto. Sappiate comunque che il vero amore non è amore vero. Buonanotte.